bravo Deza, bravo Deza bentornati supponendo che mi ricordi vagamente qualcosa questo era il dash basta non devi sapere altro ecco devi attivare la pippa guarda la monta in barra ci dovresti avere cercare un gesto per darti un passo non mi ricordo ah è giusto che i nage sono uniti a te nage nage apri in mente gli oggetti non c'è il tasto per darti gli oggetti mettiti in barra ah no non ce l'hai usa quello se vuoi consuma ma questo è una dreneo ah giusto perchè una dreneo una drena ti attacca perchè io sono cattivo perchè no sono cattivo perchè i drenei sono stati corrotti il pianeta dei drenei è stato corrotto dalla legione e che era uno dei tre ah giusto questo è il coso sbroccato me l'ho dimenticato il sbratto sbroccato vai chiudi e come dicevamo quindi i drenei sono alleati ai demoni perchè mai sempre one shot one crit anzi one hit one crit si stai divertendo non sono tanto tasto dal q e il tasto sinistro ma su simulare no? magari se comunque troppo non lo abbiamo bravo Dan è il suono che fanno questi demoni quando gli effetti comunque questa ben tornati nella seconda parte del cacciatore dei demoni voglio farvi vedere almeno un po' di gameplay di cosa succede quando nel mondo dei demoni cioè nel mondo del frammento non mi ricordo come si chiama non mi viene in mente in questo momento dove c'è la chiave che serve per viaggiare tra tutti i mondi tra tutti i mondi dei cacciatori dove è presente la legione ora abbiamo aperto due portali se non sbaglio questo è il terbo e il terzo non c'è un grosso problema leggi leggi sopra perchè devo ordinare di sacrificarlo? la regina deve aver fatto qualcosa a questo portale nemmeno le anime di molti sono state in grado di aprirlo devi fare una scelta adesso uno di loro deve morire uccidi uccidi lui uccidi te ordina di sacrificarti io ho ordinato la seconda e ci è successo una cosa divertente allora la facciamo vedere eh però non so cosa succede prima però nooo era bella la seconda rifletti ancora un po' sulla tua decisione uccidimi dici sei più importante te tu mi sei un problema vai arrivi è dot libro il tuo spirito guarda che succede rispondo qua e devo ritornare in vita si vai mentre ti viaggi ti preoccupai hai detto cazzo vabbè tanto io non muoio leggi che ti scrive interessante non sai chi si sta parlando io li dai scarzo oh grande bella frate allora com'è bella frate si si tutto questo è inventato come dicevamo l'altra volta durante l'attacco di parte gli azzardiani ehm al black temple quindi durante il periodo di tbc giusto giusto quindi noi siamo immortali oops spoiler accetta ok devi finire attivare il coso dov'è? lì sotto quello quello ah questo è giusto che vanno spaccato grande che abbiamo aperto le zoccole eeeh andiamo signore che dice avete le naga le zoccole iiii chi era il terzo non mi ricordo tanto eeeh altri di noi? no eeeh i dranei i dranei i dranei i dranei i dranei non corrotti i dranei i dranei non corrotti o i dranei quelli a servizio di Ah minchia guarda un po' chi shard ora Queste spese stanno prendendo polenze Capito? Fallo su Sono quelli lì ai fianchi Ti attaccheranno Però Vieni bellino Andiamo a guidare anche l'altro Grande sei qua per darmi una mano Vai ci treni col pugnalettino Ma magari fa Dai 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 interrompi Ricordiamo tutti quanti che i cacciatori di demoni faranno la verabilità Rivellando come tu? Rubando i poteri e demoni Ho rivellato? Quasi Torna indietro Ah aspetta Allora interrompi il lancio di incantesimo e ti vedisci il lancio di... bla 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 Ok tipo Minchia guarda mi è bindato di merda Vabbè Io l'ho messo il tasto sinistro il mouse Se lo sposti qui è il tasto laterale del mouse Ah non c'hai abilità tra barra Che so Vai 5 Utile Eh Vabbè fino a 5 ci arrivo Almeno giocavo mi sa No giocavo fino a 4 QE R F G Io anche T Io anche T Io e T no Monta su Desa Eh monta su Ma dove cazzo devo andare? Aia 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 Che ti sei aperto Ma dici che devo far portare a me? Nooo Sbrattaaaaaa Perchè? 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 Non so Ho l'impressione che ce l'hanno con me Sì Ma che cos'è? A me non era successo questa sbrattata in me AHAHAHA Cosa ti sta sparando di continuo? Adesso mi arriva in testa Desa scappaaaaaa Quanto sei stato da qua a darti? E' questo Scappa Desa Ok fine No non è questo Panico Aspetta però tu sei... E' grosso Cioè mi sembra diverso Ma lascialo stare vai avanti Magari mi dà qualche abilità Ma che ti dà qualche abilità? Vai Vai corri Desa Mi sa che infatti ci puoi arrivare volando Questa è stata di classe come è riuscita Bella Quindi ci sono i naga, ci sono le zoccole Ci sono i dranè qui avanti Ciao frate Vai Che dice che se ne frega Tanto gente che ti fa Big money Big money Voglio livellare Ok che devo fa? Parlare di questi scemi Sì Ci erano fatte Aspetta Dario gli ordini Allora ci c'ha Sì vai 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 Signora vai a picchiare gente Naga ha fatto Scivarra Vai Vai a picchiare altra gente Fatto Tu Capitano dei Vai picchiare Lingua morta Vai 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 andate a crepare Picchiare le lingue morte Fatto Naga son partiti Un po' lenti Noo torce di merda Grande che devo fa? Ehm Andi la Dai che stiamo livellando Dai che stiamo livellando Manchia sta Questa è la mappa In alfa verde In beta pure Schippa 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 e corre Corri a schippa Vai montina Uh ciao raga Guarda ti faranno fare cosa più figa Che quando Cazzo che figata Ok Il broccato ovviamente Come tutto Accetto di usare la tua vista spettrale Per guardare all'interno della camera Va bene Questa Vai appiccia la vista spettrale Quale gaverna scusa? Quella Accetta la spettrale No 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 girati Vai Quello viola è da lutare Non scriglio Ok Ripara con la tizia L'ho fatto Ti dai 36k così Accettati Un parerà lancio della lama All'attacco Perchè sono così lento All'attacco Uh lo scrigno Ciao raga Ciao Ciao Appuntista Da grato quello Da grato quello Da grato quello Bravo Deza Vieni qua Un altro Spigna Ma vaffanculo Beccati l'ho sbrattato Ma lei io non Perfetto No Eh l'ho interrotto Interrompi interrompi Eh l'ho incidito Il primo è interrompibile L'ho fatto prima L'ho fatto prima Eh Deza va a tutta la porta Che te frega Che te frega a noi D'Artylus Due Deza Due Ma che si chiama? Deza GG Kazza Kazza Ti rompi Deza Bravo Deza Grande Aspetta Vai Pesca Pesca Quello Pesca Che hai trovato? No Hai imparato a lanciare la lama Ok Eh non so Cazzo Ok che fa questa? Ma non capisco perché te le sta dando adesso le quest Cioè le 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 Ti da subito le Vai torno ancora indietro Buttati di qua Ma questa fa male Salta salta il plano Di la destra Bella Ma cosa fa? Allora lancia Fa danno? In teoria te dovrò dare il comprensibile questo Ma sti cazzi Forse perché l'ho già fatto Non lo so Si comunque lancia No No Single target Però è un attacco a distanza E rimbalza Ah si in una regione rimbalza fino a tre volte Ah Cazzo Andiamo un po' rimbalzare sui due nemici agendimi 13 metri Consuma energia? No No Genera? No Un down e basta C'è una skill che ti fa balzare Fa un danno e ti fa balzare indietro Se la fai in combo fai danno fai balzare indietro l'attacchi E poi ci ritorni con l'uno capito? Ok Tan 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 Nascondino No Fatto da quest Ma l'ho già imparato E' quello che ti sto dicendo A me è Vai livello 99 Boom Tre quest Diretto uno dietro l'altro Comunque non manca tanto Ma lo che dobbiamo fare? Vai Devi buttarti la su No Ok sto Non ti buttare Ah Monta Monta Non come fai con me E intanto E devo salta qua? Si Io salterai con il plan Non ho capito Ti sei caccato sotto Vai Skip Skip Veloce E questo Non skip Cazzo questo è forte Ah si eh? Buona Quattro Quattro No Tbagliato tasto Va bene Vabbè io mi devo dare Vabbè Bravo Dezza Bravo Dezza Vai corri Dezza Qua c'è No c'era una quest Ho visto un tizzo? No? Non si chiama questa Non si chiama questa Si No ci si chiama qualcuno da Vabbè 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 Dezza Vabbè Skipa il più possibile che non ti serve Devi andare a quella cosa disturbita Eh l'ho capito Corri Dezza Corri Dezza Corri Dezza Corri Dezza Non è calderabile Arriva Dezza 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 Ciao Arriva Ma semmai che lo chiamiamo Morsovoce Hai mangiato almeno Cosa? A casa Ma com'è casa? Te l'ho scritto sei volte che stasera mangia a casa Sei due volte te l'ho scritto Povera madre Che devo fare? Se c'è da mangiare però mangio C'è sì da mangiare Allora vado a mangiare Vai Vai a mangiare Ho cenato Vai a fare compagnia Su Fatto Quindi? C'è i cannelloni Cioè no i cannelloni La pasta al forno No Vai Non c'è la pasta Eh beh fai compagnia Arriva arriva Vai Bravo Dezza Uno congelato Uh Raro Stiamo facendo la cosa per la In infa In infa certo Ma è Stiamo in alfa e stiamo facendo per il nostro giovane pubblico a casa Eh ma mi sai questi? L'ho togliato Vai Ti piace fare il faridario? No non l'ho fatta io eh Eh ti rompi Eh non ce l'ho Eh perché mi son confuso e volevo tirare il 6 invece ce l'ho tolci No C'è anche la pozza Scappala Eeeh C'è la pozza Eeeh Bravo Uh Grazie Eh Non l'interro Facciamo così che te lo interrompo io Eh non l'ho visto che era perciò il cast No Mi facesse l'uno No No Perché lei Perché l'hai tirata? Dio cristo Ehm 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 Vai che è quasi morto anche tu Vai che è quasi morto Vai che è quasi morto Vai lavati dalla forza Perfetto Per prendere il Lutalo 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 e prendere la vita Vai desert Bracciali blu Perfetto Tirati su Morto dentro Ah si devi tipo Cosa di guerra Vabbè vai a fare Eh questo l'ho sfondato Eh devresti mi sa che ammazzare gente forse No Si Ah vai di cura cura di quello che è morto Eh avevo visto una cosa così prima io C'è un altro eralo eh Dove Dio sopra nella mappa Sopra Sopra Persino i li da un grande Ah ok questo Senti ma a sto punto Sei Stavo aumentando il progresso Grande Si Spillata la naga Si Ma senti eh Vabbè Vabbè Fatto per il loot e per L'estero Tu asigni dietro a te Sono raro se vuoi L'estero L'estero Lì si Chi è? Quello lì mi sa che è raro No Mi sa che questo qua è dietro Si Vabbè pulisco Vabbè pulisco Bello Pulisco di qua E poi vado a farmi il raro Mi piace che forza sta Lama Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace anche come dire Perchè ha le mani Perchè ha le mani E' bindato in merda sta cosa Perchè ha le mani Ma tu non sei morto Eh? Morto alla volta Vai Attiva questo Lui è mortale Lui è mortale finchè c'è questa roba sua Questa 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 mi sono perso qualcosa non lo so mi sono perso quello di ciò sennò ignoro quanto ha? devi stare in te roppi affanculo 4 ammazza quello ammazza quello non l'ho visto grandi seguo per aiutare la visione non ho la Q scusa io se l'avevo messo la Q ora altari altari vai dai 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 hai ragione forse anche ti manca Tardatara ti manca Tardatara? ti manca Tardatara? ma è questa questa ma stai in mezzo 4 4 devo fare una cosa carina eh un cassaia si è forte si è forte sono forte l benefited io ti manca ma questa questa per me le ammazzo si si sta per morire di si dove è il loot? c'è una naga qua che sta facendo i numeri vai, ancora uno sei perché eh no, c'ho l'aggro di sto lupetto del cazzo bravo Dessa ok, seguiamo la strada, ah questo immagino ciao fratello vabbè io direi che comunque no no, finiamo allora abbiamo curato il tizio che palle schippa 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 da za sono già in combat schippa da za schippa eh c'era questo qua vabbè, sotto ancora l'alien vai, ci siamo azzare la cicciona di merda salta salta, spazio, vola quella fa male l'acido è brutta caverna, te lo dico per esperienza cioè è brutta piena di pozzettine del cacchio questa cosa fa scusa? usala un buff per 10 minuti ma a me non è sembrata così dramatica prolifica ti chiami tu? e che bella ignorina che situazione di merda ma eh troppo vabbè, non c'è vabbè, non c'è non c'è non riesco a usarlo un tasto che vada sopra il quattro sarà un mi riflesso, un tasto che vada sopra il quattro non sooo non serve ma non serviva nooo ci sono queste le vado, me le prendo le vaffanculo guarda, sono full i deboli hanno paura ieri uomini non hanno paura buona la tua abilità bravo utento? mutiamo il ciccione grande devo portare questo immagino una scema prima ehm si nooo ma che cazzo vogliono? andate a caccare spero se siete ancora con me vi uccido quando siete fuori se no vaffanculo ehi ma in quest item non ti mette più qua ehm no boom ahia bisogna del limpio vai ma salta via salta via chiede le borse nooo vai tranquillo vai avanti devi bloccare altre fai il t-punte perfetto c'è gente che picchia grazie infartini l'h caduto a destra no 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 eh no è tanto qua uno due quattro no non lo spiego dai ce lo voglio fare cazzo ah quella bella cosa finita ci manca un'altra ci manca un'altra cazzo cadono le cose sei full ah perchè le prendo questa 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 è un'alimentazione diciamo passeggera per quello che ho potuto vedere di questa espansione cioè tranquilla qua qua si si non succede niente altro qua dentro ok abbiamo devastato la ci manca quella si dove cazzo dai 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 da qua si sono passato proprio da qui a sinistra da qua si schifo schifo odio ragni 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 di merda ragni di merda ragni di merda vai perfetto no ma ci sono ragni schifo tu odi ragni finca si e 4 io puoi tirare eh bravo 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 ti dudo però eh ok abbiamo fatto no? mhm bravi tutti e ora? se esito vorrei lo spanno ah vuolci di cliccare no vattene dai destra ma ci torno da qua eh? a destra da qui bravo bravo desa ma ci sono i ragni 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 non finiremo mai ah ok ci torno da dietro ho capito da quello che si vedeva si? si ok tutto chiaro ah qua è dove siamo andati a uccidere Coglie bravo hai visto hai capito tutto desa ho capito tutto bravo desa ora puoi suicidarti sotto al burrone centrale per favore no eh come sta signor Talisin bene bene ma com'è sta voce da da uomo vera da persona normale no che hai fatto? allora grande non ho la skill no in casa mia nel weekend si sono ammalati tutti hanno preso tutti l'influenza hanno preso la febbre 38 si a me non mi ha preso niente wuuu si guarda un attimo clicca su quel libro devi scegliere la specializzazione e vai a destra ma perchè devo fare tank? fa quello che ti fa allora allora questa specializzazione è niente mi ha preso un mal di gola pesante quindi io parlo così non è mal di gola è transogenica la sua vendetta sono ormoni oh finalmente sono diventato vendicoso che hai imparato? vendetta? cosa è quella roba? non lo so la vendetta sarà mia grande allora uno dici cos'hai preso desa eh? giocava a resus giocava a resus io ci sto a te è piaciuto gli aria? si perfetto spezza il sigillo che fa spezza il sigillo? ha fatto tank? si ecco perchè io non c'ho ancora le skill vai fai 3 perfetto giralo giralo e finiamo qua il video di oggi quanto cazzo l'ignorante è ignorantissimo vero? quanto cazzo l'ignorante? è ignorantissimo vero? è ignorantissimo vero? ma è per sempre? quanta tura? no ok io sto tenendo ah no quello è finito zero? bello 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 bravo desa bravo aspetta intanto devo dire sei grande devo imparare le cose devo imparare le cose anche a te no a te a te ho detto tieni ti insegno cosa ho imparato segno a trasformarsi tutti quanti e ah cioè io faccio diventare tutti i pro e loro mi vabbè dicono grazie ce n'è un'altra a sinistra sinistra tu sei triste tieni lui muore lui muore guarda fallisce la trasformazione e muore cioè despona proprio posso rudarle? no miau va bene non era abbastanza pro non era abbastanza pro per noi signori alla prossima giornata giocata di viva VOV viva la figa viva i peli ciao 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 ciao